Ciao a tutti ragazzi, sono RamDeadMan e benvenuti in questo nuovissimo video a tema Assassin's Creed. Vi ricordo che in questo video potrebbero esserci spoiler sulla storia. Infatti oggi parliamo della connessione tra l'ultimo capitolo della serie Assassin's Creed Valhalla e il primissimo capitolo Assassin's Creed uscito nell'ormai lontano 2007. Vi ricordo di lasciare un like e iscrivervi per altri contenuti a tema. Come notato da un utente Reddit, in Assassin's Creed Valhalla ci spostiamo tra tre città, Jorvik, Londra e Winchester. Lo stesso avviene nel primo titolo di Assassin's Creed, dove le città erano invece Acre, Gerusalemme e Damasco. Infatti queste tre città sono prede di forze ostili, rispettivamente ordine degli antichi e i templari. A primo impatto questi potrebbero non sembrare grandi riferimenti, ma semplicemente schemi narrativi che si ripetono. Tutt'altro invece l'utente Reddit continua rivelando che ciascuna delle città del nuovo capitolo rispecchia quelle del primo titolo, affermando che si ripetono anche gli stessi schemi con l'incontro della stessa tipologia di personaggi. Tra questi infatti trovate un medico pazzo, un bruciatore di libri e un boia, per poi continuare con un avvelenatore durante una festa, un addestatore di truppe, un mercante corrotto, eccetera. Figure della società importanti che hanno le stesse caratteristiche dei più famosi nemici che Altair ha dovuto eliminare nel primo titolo. Infatti potete notare che lo schema creato appositamente per questa teoria coincide. E voi cosa ne pensate di questa importante semilitudine tra Valhalla e primo Assassin's Creed? Fatelo sapere, noi ci becchiamo, alla prossima. Ciao! Ciao!